Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch, un nuovissimo metodo per avere il completo con le gambe invisibili. Per eseguire questo glitch dovrete avere due personaggi, il primo personaggio dovrà essere maschio mentre il secondo personaggio dovrà essere femmina. Poi dovrete giocare ad un qualsiasi minigioco di GTA Online come tennis, fraccette, braccia di ferro, uno di questi minigiochi cosicché tra le attività recenti del proprio account PSN ci sarà scritto che avrete giocato a quel minigioco, nel mio caso fraccette. A questo punto dovrete essere in una sessione di GTA Online con il primo personaggio quindi con il personaggio maschio, dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su cambia personaggio e dovrete selezionare il secondo personaggio ovvero il personaggio femmina. Quando sarete esponati in sessione con il personaggio femmina dovrete recarvi in un negozio d'abbigliamento, dovrete andare dove ci sono le parti superiori, magliette designer e dovrete indossare la maglietta top oro brillante. Indossata questa maglietta dovrete andare su pantaloni, pantaloni cargo e dovrete indossare i pantaloni cargo kaki. Indossati questi pantaloni dovrete andare su scarpe, tacchi alti e dovrete indossare le scarpe vernice beige. Indossate queste scarpe dovrete andare su copricapi, cuffie di lana e dovrete indossare il berretto crevis rosa. Indossato questo berretto dovrete andare su occhiali, occhiali casual e dovrete indossare gli occhiali montatura rame. Indossati questi occhiali dovrete andare su accessori, catenine e dovrete indossare la collana di X oro. A questo punto dovrete andare dove c'è la commessa e salvare il completo tra i completi salvati lasciando il nome così com'è, nel mio caso nuovo completo 0. A questo punto dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su cambia personaggio e selezionare il primo personaggio, ovvero il personaggio maschio. Quando sarete esponati in sessione dovrete andare su completi salvati e dovrete indossare un completo buggato, nel mio caso io ho selezionato il completo a scacchi. Non so se per fare questo glitch dovrete selezionare per forza il completo a scacchi. Se non avete fatto il glitch per avere il completo a scacchi e volete fare questo glitch provate a selezionare un altro completo buggato. Se non vi funziona vuol dire che avrete per forza bisogno del completo a scacchi. Per sicurezza vi lascerò il link nella descrizione sotto questo video, il link del nuovo metodo per avere il completo a scacchi. A questo punto dovrete tenere premuta la freccia in basso e dovrete selezionare Franklin. Dovrete andare nella storia con Franklin. Nella storia con Franklin dovrete aver acquistato questo garage che costa 30.000 dollari. Il garage dovrà anche essere pieno di auto, perciò dovrete parcheggiare 4 auto all'interno del garage. Se volete potrete rubare 4 auto dei civili nella strada e parcheggiarle nel garage come ho fatto io. Il garage dovrà anche essere pieno di auto all'interno del garage come ho fatto io. Il garage dovrà anche essere pieno di auto all'interno del garage. Un altro requisito fondamentale che vi servirà per eseguire il glitch è aver sbloccato Jesse tra i personaggi speciali della modalità regista. Per fare ciò dovrete recarvi in questa locazione che sarebbe la locazione dove si trova Jesse. Dopodiché dovrete avvicinarvi a Jesse e premere la freccia destra per parlare con Jesse. Parlando con Jesse, Jesse sarà automaticamente sbloccato nei personaggi speciali della modalità regista. Quando avrete terminato di parlare con Jesse dovrete aprire e meno interazione e dovrete andare nella modalità regista. Quando sarete nella modalità regista dovrete andare su attori, personaggi online e dovrete selezionare GTA online 1. A questo punto dovrete attendere un minuto senza fare niente. Quando avrete aspettato un minuto dovrete tenere premuta la freccia in basso e selezionare la roulotte. Uscirà questa schermata con scritto voi tornare alla roulotte. Voi dovrete premere X per confermare. Quando sarete tornati alla roulotte della modalità regista dovrete andare tra le attività recenti delle proprie account PSN. Dovrete premere X dove ci sarà scritto che avrete giocato a quelle minigioco, nel mio caso freccette. Dopodiché dovrete premere X sull'opzione avvia minigame. Quando avrete premuto X sull'opzione avvia minigame uscirà questa schermata con scritto vuoi tornare alla roulotte. Dovrete premere cerchio velocemente per annullarla. Dopodiché dovrete premere un'altra volta cerchio, dovrete andare su personaggi speciali e dovrete selezionare Jesse. Quando avrete selezionato Jesse si buggerà la visuale di gioco come state vedendo nei video. A questo punto dovrete aprire i menu interazione, però il menu non sarà visibile nella visuale di gioco. Infatti vi consiglio di eseguire questo passaggio sentendo l'audio del gioco. Quando avrete aperto il menu interazione dovrete premere 5 volte la freccia in alto. Quando avrete premuto 5 volte la freccia in alto dovrete premere una volta X. Quando avrete premuto una volta X dovrete premere una volta la freccia in alto. Quando avrete premuto una volta la freccia in alto dovrete premere una volta X. Se avete premuto i tasti correttamente il personaggio si sbaggerà dalla roulotte potendo muovere sia il personaggio sia la visuale liberamente senza problemi. A questo punto dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su online, seleziona personaggio e dovrete selezionare il secondo personaggio, ovvero il personaggio femmina. Fatto ciò aspettate il caricamento. Dopo un po' di secondi durante il caricamento uscirà questa schermata con scritto Attenzione, tempo per ritrovare la sessione scaduto. Ritorna a GTA 5 e riprova più tardi. Voi dovrete premere X per continuare. A questo punto vi farà spawnare automaticamente nel single player, nella storia. Quando sarete spawnati nel single player, se il glitch sta funzionando correttamente, In alto a destra ci sarà sempre la scritta modalità regista. A questo punto dovrete aprire il menu rapido della Playstation. Dovrete premere X sull'opzione chiudi applicazione. Uscirà questa schermata con scritto la seguente applicazione sarà chiusa. Voi dovrete premere X su OK. A questo punto dovrete riavviare il gioco, quindi riavviare GTA. Appena avrete riavviato GTA dovete tenere premuti i tasti L1 e R1 per far sì che durante il caricamento uscirà la schermata della calibrazione dello schermo. Quando uscirà la schermata della calibrazione dello schermo potrete smettere di tenere premuti i tasti L1 e R1. Confermate la schermata della calibrazione dello schermo e aspettate il caricamento della storia. Quando sarete spawnati nella storia dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su online, gioca a GTA online e dovrete selezionare sessione solo a inviti. A questo punto uscirà questa schermata, politiche online di Rockstar Games, dovrete mettere la spunta dove c'è scritto ho letto e accetto l'eula eccetera eccetera. Dopodiché dovrete premere X su invia. Fatto ciò aspettate il caricamento della sessione. Quando sarete spawnati in sessione, come ben noterete, sarete spawnati con il primo personaggio, con il personaggio maschio. Anche se in realtà l'ultimo personaggio che abbiamo selezionato sul menu cambia personaggio era il personaggio femmina. A questo punto dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su stile, abito e dovrete selezionare il completo buggato che avete salvato con il personaggio femmina. A questo punto avrete il completo con la parte superiore buggata, addirittura le manette e le gambe invisibili. Purtroppo quando selezionerete il completo le gambe torneranno visibili, il personaggio indosserà automaticamente una maglietta nera e dei pantaloni grigi. Però come ben potete vedere le manette non scompariranno mai, rimarranno sempre. Però ragazzi c'è un glitch che vi permette di bypassare le parti del corpo del personaggio invisibili. E la cosa bella di questo glitch è che il glitch sarà sempre in funzione anche dopo essere morti, dopo aver cambiato sessione, fino a quando non uscirete dal gioco. Oltretutto senza essere CEO. Vi lascerò il link di quel glitch, di quel video che ho caricato circa una settimana fa nella descrizione sotto questo video. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. E da Orko vedrete tutto noi ci vediamo al prossimo video. Bella!